Ciao zietta, l'hai letta la notizia? Eh, praticamente Giuseppe Pericuo è diventato consigliere di amministrazione della banca della nostra regione, la genovese Carige. Sì, brava, è proprio l'ex sindaco di Genova. Ma zitta, cosa dici, cosa dici? Non puoi dirla sta cosa, perché dicono che lui oramai non fa più il politico ma fa solo l'avvocato amministrativista. Settore dove dicono sia uno dei più bravi in Italia, non lo metto in dubbio, per carità. Ma in effetti di sicuro è così, perché sai, anche il premier Matteo Renzi ha detto che la politica ormai è uscita dalle banche italiane. No, no, zietta, non importa, non importa che Pericuo è stato sindaco per dieci anni, per la precisione dal 1997 al 2007, in piena era di Giovanni Berneschi, l'ex presidente di Carige, che ne ha fatti più di Carlo in Francia. Chi se ne frega zia, ti stai concentrando su dei dettagli, guarda.